Da, ci metto. Ma che mi interessa? Sì. Qui ci sono in ballo dieci miliardi. Quindici. E non si sa quante, ma sono assai. Tante. E noi altri siamo piera del debito, siamo. Bisogna mettere quelle donne in condizione di non fregarci. E come? E come, come, e come? Dimmelo, come? E... E... Isolandole. Nico, isolandole. E che c'è meglio? Loro non stanno lassù nella villa? Benissimo. Io ci faccio un cordone dei peggiotti. Le circondo. E stai tranquilla che i maschi lassù non sentiranno nemmeno l'odore. Ti assicuro che un uomo al di sopra di dieci anni alla villa non si avvicinerà più. Benissimo. Ma l'avvocato Baldo. Già, l'avvocato Baldo non ci hai pensato? E' vero. L'avvocato... Ma che ti importa? Uomo, eh. Ma che preoccupazione c'è? Ma come? Ma che? Non te ne sei accorto? No, ma di che? L'avvocato Baldo... La bambina c'è. L'avvocato Baldo non... Ma allora non è Baldo, è Froscio. Ma che... Ti...